A io e te Laura Efrician, buon pomeriggio. Grazie, grazie di essere qua. Bella questa presentazione, commovente. Fa molto piacere, ci tenevo molto ad averla in studio. Tra l'altro c'è un gioco che spesso si fa sul suo cognome, tutti dicono Efrician, ma si dice Efrician all'armena. Sì, guarda, ha quattro accenti, Efrician, 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 Efrician. Dei quattro scegliamo o il primo o l'ultimo. Efrician? Efrician, all'armena. Le va bene? Benissimo. Senta, è un piacere la prima volta. Scusa, ma perché non mi dai del tuo? Hai paura dei miei 80 anni? No, perché noi non ci siamo mai conosciuti per rispetto, pensavo che fosse meglio lei. Ma io ti guardo, per me ormai tu sei un amico. E allora ti do del tuo. Dammi del tuo. Allora Laura, benvenuta. Grazie. A proposito di Armenia, tuo papà, Angelo, era violinista, direttore d'orchestra e compositore. Sì, scopritore di Vivaldi, diciamo. Sei cresciuta in una famiglia piena di culture e d'arte già. Sì, è vero. Poi però, che ti devo dire? Quando mi sono innamorata poi di Morandi e l'ho sposato, sono entrate le canzoni in casa e io non ho più capito niente. Ho confuso Vivaldi con il ginocchio da te. La verità è che io sono stonata e non sono assolutamente capace di capire né la musica barocca, la musica... Mi piace, e lo dico anche in onore di Katia, mi piacciono le opere. Quelle più facili però, quelle che riempiono, che tu hai sentito da quando sei nato. Sai che Katia sta facendo una cosa straordinaria, mai fatta, nei pomeriggi, direi uno. Sta portando la lirica nelle case degli italiani, sta raccontando la lirica ai bambini ogni venerdì. Io sono orgogliosissima di questa pagina perché vedo che la gente è entusiasta. Sì, sì, sì. Perché parlare di lirica e di melodramma con parole semplici, come fa Katia, farà differenza. Ma tu hai una storia incredibile, perché dicevo in apertura che i miei colleghi fanno sempre un'equazione legata ovviamente alla storia con Morandi, ai musicarelli, agli sceneggiati, ma c'è un'ultima parte della tua vita, quella degli ultimi anni, in cui tu ti sei appassionata di tante cose. Sì. Ti sei appassionata di arredamento, hai fatto l'arredatrice. Sì, sì. Diciamo che proprio la mia vita, avendo 80 anni, i primi 40 e i secondi 40. Ma come ti è venuta la passione per l'arredamento? Beh, perché quando io ho fatto l'Accademia al Piccolo Teatro, eseguivo moltissimo il lavoro di uno scenografo. E seguendo il suo lavoro, guardando i libri, andavamo anche, mi ricordo, a Milano, in Brianza, alla ricerca di vecchi mobili. Piano piano mi ha insegnato alcune cose fondamentali dell'arredamento, ma erano cose che io non avevo mai messo nel conto che potessero servirmi, se non per un gusto mio personale, che è quello di avere più un mobile antico che un mobile moderno. Quando poi si è presentata la necessità di trovare un lavoro, alla RAI non mi volevano più. Perché? Perché ero troppo, troppo la moglie di Morandi. Tu pensi, avevo 40 anni, sono venuta qui a cercare lavoro, molto timidamente. Ma perdona, questo è un aspetto interessante che non credo che tu abbia mai raccontato. Cioè, tu hai bussato alla RAI, che poi dire RAI, cioè nel senso immagino a qualche direttore, a qualche responsabile, e ti è stato detto cosa? Che io ero troppo riconoscibile come moglie di Morandi. Io ero tutti i giorni sui giornali. Cosa ti avrebbe fatto piacere fare? Ma fare quello che sapevo fare, l'attrice, una commedia, uno sceneggiato. Ho fatto poi, ho visto che l'avete passata nel 2000, forse l'ultimo sceneggiato grande, che era Ricominciare. Mi sembrava anche un titolo benaugurante. Ma, invece, quando io venne a chiedere lavoro, mi diedero del lavoro alla RAI. E lavorai per la radio. Ricominciai proprio una gavetta dalla radio. Beh, la radio è il mezzo più contemporaneo che c'è, devo dire la verità. E che cosa facevi alla radio? Guarda, sai che non mi ricordo il titolo. Mi ricordo però che mi alzavo alle 4, andavo direttamente a quell'edicola che c'è vicino a Via Asiago, che apre alle 5 i primi giornali. Spieghiamo a chi non è di Roma, che è Via Asiago, è la sede storica di Radio RAI, è a due passi da qui, da Via Teolada, ed è il palazzo, quello di Asiago, dove vanno in onda i principali programmi di Radio 2, di Radio 3, alcuni di Radio 1, che invece vanno in onda da Saxarubra. E allora mi compravo i primi giornali e andavo in onda alle 6 della mattina. Ma la cosa buffa è che io non facevo il programma in questa stagione, lo facevo d'inverno e c'è stato un inverno di una grande nevicata, non la nevicata del 56, una nevicata tremenda. E io avevo paura, perché dico, mi si ferma la macchina, non arrivo in tempo, si andava in diretta. Allora ho chiamato un amico e gli ho detto, vieni con la tua macchina, seguimi, perché se dovessi fermarmi, almeno qualcuno che mi porta alla radio. E sono andata avanti per tre mesi o sei mesi, in due momenti. Poi ho fatto anche un'altra cosa, dopo la domenica, quando andava in onda lo sport, specialmente la pallacanestro, dai vari campi si connettevano e io dovevo mettere su un disco, ma lo dovevo mettere proprio io, dovevo correre di là, a mettere sul disco per ricorrere a parlare. Non c'era mai nessuno, io entravo, salivo, chiunque poteva entrare. È incredibile che con tutta la carriera, con tutta la popolarità che hai avuto nei primi 40 anni della tua vita, e poi hai avuto il coraggio, anche l'umiltà di ricominciare da capo, questo ti rende ai miei occhi, francamente, particolarmente simpatica, perché l'umiltà di ricominciare, soprattutto con un'attenzione mediatica che è sempre stata legata al tuo rapporto con Gianni, però facciamo un passo indietro, facciamo un viaggio in quei film e non solo quegli sceneggiati che ti hanno reso popolare per arrivare alla tua passione bellissima per l'Africa, una passione vera, sincera, lo abbiamo detto anche nella copertina. 1964, guardate. , guardate. Grazie a tutti. E' bello il tuo sorriso quasi tenero al ricordo di un periodo della tua vita molto lontano. Molto tenero. Posso chiederti come sei stata scritturata per quel film e quando all'interno del set è cominciato a esserci un po' di companatico con Gianni? Io sono stata chiamata per fare il primo musicarello che era il film Una lacrima sul viso con Bobby Solo. Chiaramente avevano visto nella cittadella questa ragazzina così e serve per questo genere di film sempre una figura femminile molto dolce. Io avevo tutte quelle qualità che loro cercavano per cui mi sono detta vabbè non entra nei miei programmi fare un film di serie B diciamo. Intanto io dovevo girare un film che doveva andare al festival di Venezia che era la suora giovane. Certo. Per cui ho detto facciamo il film con Bobby Solo perché mi servono i soldi. Poi andiamo a Venezia e facciamo la nostra figura. Che sincerità là. Raramente sento attrici dichiarare ho fatto questo film perché mi servivano i soldi. Che sincerità. Allora ho fatto il film con Bobby Solo e vabbè ha avuto un successo enorme perché lui era veramente una star allora. Il film La suora giovane l'hanno vista 15 persone, non lo so, molto poche. Però mi ha portato in giro per l'Europa. Siamo andati prima a Budapest e poi siamo andati in Russia. Come rappresentanti del cinema italiano mi sono fatta un gran bel viaggio e ho vinto anche un premio. Allora diciamo che la vittoria del premio c'era solo Bobby Solo mi rimetteva in equilibrio. Finché arrivò la telefonata del produttore che era un napoletano di una simpatia incredibile. Un amante della musica lirica, qualunque cosa lui ci dovesse dire ce la diceva cantando un pezzo di musica. Non puoi sapere. Questo Gilberto Carbone mi chiama e mi fa Aguaglio, abbiamo bisogno di te. Comendatore, come mai? Che succede? Devi conoscere un giovanotto che è la fine del mondo. Si chiama Cianno Moranti. Sbagliando il nome. Stiamo facendo provini per trovare la fidanzata. Non si trova. C'è voi te. Vieni qua, facciamo il contratto. Così. Io gli ho detto ma scusi Carbone, ma io veramente non lo voglio fare un musicarello con questo Cianno Moranti. Dove sta? Chi è? Non lo conosco. E poi vorrei riprendere la mia carriera. Ma per carità, ma tu devi venire qui. Ne parliamo. Insomma, sono andata poi da lui e lui da buon napoletano mi ha messo in mezzo. Io, in una maniera abbastanza disonesta, ho giocato la mia carta e ho detto, vuole questa fidanzata e non ne trovate un'altra? Allora mi raddoppia il compenso. Che meraviglia. L'hanno fatto? L'hanno fatto. E quindi non solo ti hanno raddoppiato il compenso. Ma durante le riprese nel set hai conosciuto? No, prima. Al ritorno dal Giappone mi chiama l'ufficio stampa del film e mi dice è arrivato alla fiumicino Gianni Morandi. Quindi prima delle riprese? Prima delle riprese. Hanno portato anche dei vestiti da soldato di mettergli perché molti credono che lui vestito da soldato fosse stato nel momento in cui lui ha fatto il soldato. No, quella era un'invenzione del regista, dello sceneggatore. La coscienza, il primo flirt, diciamo così, il corteggiamento è avvenuto prima o durante le riprese? Durante le riprese. Ma io credimi, quando ho visto questo ragazzo che ogni tanto io dico sembra fatto con gli scarti di tre o quattro corpi diversi perché ha le spalle strette, le braccia lunghe, le mani grandi, sembrava un pupazzo ricostruito. Io quando l'ho guardato negli occhi e ho visto questa purezza, io ho pensato questo lo vorrei come padre dei miei figli. Ma che bella questa ripresione. Ma perché io sono fatta così? Quindi è stata una cosa distinta. Ho delle intuizioni che mi portano... Sì, distinto. Però poi mi sono detta, beh vabbè, date una calmata. E te la sei data, sta calmata? Eh, abbiamo... ci abbiamo impiegato un po' di tempo, ma poi è andato bene. La passione tra voi due è scattata subito durante le riprese? In quest'ultima scena è scattata. Ah, è scattata in questa scena qua? Perché questa scena finale ci faceva finire anche il nostro incontro giornaliero. e in effetti tutti e due eravamo dispiaciuti di lasciarci. Ma ci dissero poi che la ripresa non era stata buona di luci, che dovevamo rifarlo. Per noi è stata come una predestinazione. Abbiamo rigirato quella scena e la sera stessa io ho preso un treno e sono andata via con lui. È bellissimo questa dichiarazione che fai, è la prima volta che la sento raccontata in maniera così dettagliata. Prima, raccontando di quell'anno, del 1964, facevi riferimento, secondo me, ad uno sceneggiato che ancora è nella memoria collettiva. La Cittadella. Mary, tu sei una ragazza coraggiosa. Lo sei in modo ammirevole. E io non ti nascondo che il tuo caso mi preoccupa. Per un po' di tempo non devi più lavorare, né a casa né fuori. E bisogna mandarti lontano da qui, in un bel posto, con l'aria buona, dove tu possa curarti. Ma quei posti lì costano. E anche quel piccolo stipendio che io porto a casa. Parlerò io con papà. E il signor Vogan potrebbe forse aiutarci. Vedremo quello che si può fare. Perché? Non ci andresti volentieri? Sì, ma... Ma non sarebbe lei a curarmi. E io mi fido solo di lei. Ma la bellezza? Sei una donna bellissima. Ma devo dire che guardando queste immagini c'è una purezza, una grazia, che ti contraddistingue rispetto alle attrici dell'epoca. Sei molto naturale. E ne eri consapevole? No. No? Mai stata consapevole del fatto di essere carina, molto carina. Non era una cosa che in casa si considerava la bellezza. Io sono cresciuta in una famiglia dove si consideravano altre cose. Per esempio? L'arte, la cultura e l'occuparsi degli altri. Ma perdonami, tutte e tre cose bellissime. Quindi è un'altra forma di bellezza che vi occupavate. Non quella fisica. Ma infatti la mia famiglia è stata una famiglia splendida. Per quello ho scritto poi un libro che ho riscritto e che riuscirà sperando non postumo, sperando di avere il tempo poi di godermelo. I tuoi figli? I miei figli. Mariana e Marco. Mariana ti manda anche salutare. Mariana è una donna a cui io voglio molto bene, che ho frequentato negli anni, soprattutto negli anni della gioventù. E devo dire che di lei mi ha sempre colpito l'entusiasmo, il fatto di stare sempre un passo indietro, di non usare mai il vostro, il cognome di Gianni, la tua storia. Ha sempre fatto una vita, diciamo, indipendente dalla famiglia e questo me la rende da sempre simpatica. E Marco, tra l'altro, devo dire la verità, ama talmente i suoi bambini. Io li ho visti un po' crescere in campagna, ogni tanto andavamo insieme. E devo dire che è una famiglia che ha il senso della famiglia. Cioè sia Marco, sia Mariana hanno ereditato da te e da Gianni questo senso della famiglia. È una famiglia allargata. Una famiglia allargata ma molto unita, molto unita. Ecco, non so, non trovo altro aggettivo per dire. C'è molto rispetto reciproco. Molto. E adesso era venuta qui per accompagnarmi, ma insomma le leggi ferre della RAI non hanno permesso che lei mi accompagnasse, ma voleva salutarti. Mi ha detto salutalo mamma per me. Ma dagli un abbraccio Laura da parte mia, non vedo Mariana da un po' di anni. Guarda che ci sta guardando. L'ultima volta l'ho vista a Sanremo, qualche anno fa, ci siamo divertiti, abbiamo fatto le 4 del mattino a ridere come dei pazzi con degli amici comuni. Nello stesso anno, nel 64, la cittadella in un programma RAI... guardate. Le forze armate, i corpi speciali, le varie associazioni che danno incentivo allo sport, traggono prestigio tra l'attività dei loro campioni. Questo legame tra colui che gareggia e il suo gruppo è uno dei valori più alti dello sport. Mai vista questa cosa? Si chiamava lo sport. Come e perché? Devi sapere che prima di venire qua io mi diverto sempre con gli ospiti andando nelle teche RAI a cercare le cose più inedite sugli ospiti. Questa è assolutamente inedita, in assoluto, mai vista, mai ricordato di averla fatta. L'unica cosa che ho capito di questo filmato è che avevo ancora un abito che mi era servito per sposarmi, figurati, con le margherite. Quindi non ho capito, questo era lo stesso abito? No, che ho usato, sì. Che hai usato? Ho avuto il vestitino bianco e blu da sposa, siamo andati al mare a fare il bagno e avevo messo questo vestito verde con le margherite. Si vede, io sono una grande risparmiatrice, ho usato il vestito da sposa per mettermelo per fare quest'annuncio evidentemente. Qual è la differenza tra la tv che hai frequentato te, anche in questo caso, come annunciatrice, con contributi, come nel caso di questa trasmissione in cui parlavi di sport, e la tv che guardi oggi da telespettatrice a casa? Beh, trovo una grandissima differenza, grandissima. Quando vengo qui mi pare di ritornare indietro, mi pare di ritornare a casa. Gli studi di Via Teulada? Io in questi studi ci sono entrata vent'anni e andavo al, mi pare, primo o terzo piano dell'altro palazzo a bussare a una porta perché chiedevo a questo signore che c'era lì dentro, c'è qualche nuova commedia da fare, cosa c'è? E quel signore era, adesso penso che mi sfugge il nome, ma è troppo famoso perché non... come si chiama l'autore? È un sottravani? No, l'autore di Montalbano? Camilleri. Camilleri. Spesso mi dimenticavo lui. Camilleri lavorava come sceneggiatore e come autore qui, faceva sia sceneggiati alla radio che in tv. Come autore. E io andavo da lui, gli dicevo, c'è qualcosa? No. Però lei è troppo magra, mi ha detto. E lui pure era magrissimo. Sì che un giorno siamo anche andati a pranzo insieme. Era un uomo molto carino, molto simpatico. Ne ho sempre un bel ricordo. E poi le cose avvenivano così. Un giorno ero qui al bar della... Al bar. Non questo esattamente, era messo in un altro modo. E stavo prendendo il caffè, arriva un altro di questi che lavoravano insieme con Camilleri, ma mi pare che si chiamasse Benvenuti. E mi fa, Laura. Io dico, sì, che c'è? Ma sei qui? Sei libera? Sì, buetti giù il caffè, devi soffare una sostituzione, la guarnieri si è ammalata. No. Sì, corri. E così nasceva. Nascevano spontaneamente. Nasceva spontaneamente. E soprattutto, devo dire la verità, quello che ha aiutato me, e credo tante altre persone, è venire preparati. Perché se tu hai fatto una scuola seria di recitazione, voglio dire, per cui il primo anno solo di edizione, il secondo anche di recitazione, tu hai le carte in regola, tu ti senti a posto con la tua coscienza. La differenza la fa la competenza. Infatti spesso in questa trasmissione, nelle conversazioni che faccio con i miei ospiti, torniamo su questo argomento, perché la sensazione che sia è che oggi la competenza conti meno, no? E poi, chi non è competente, chi non ha una storia, non ha fatto la gavetta, può durare due o tre anni, ma poi la vita, la ruota gira e lo fa ritornare da dove è arrivato. Infatti, vedo personaggi che vanno, vengono, che non si sa bene che cosa facciano nella vita, che poi ritornano. Insomma, sembrano tutti avventizi. Mentre il lavoro è dietro. È una cosa seria, ci vuole metodo e disciplina. Ma come? E a proposito, sai che ho trovato nelle Techerai? Un backstage incredibile, quello della suora giovane. Ma no, pure quello. Questo è il famoso numero 21, dove Serena tutte le sere sale, alle 7 e va dal suo ammalato. Bene, Serena sale però, Laura e Fricchian in che modo sale? E questo è il fatto. Come? In che modo? Sì, cioè in quale stato d'animo, perché è così difficile, penso, per un'attrice giovane, incalarsi in un personaggio come questo. Ma non è difficile, perché Serena non è una suora, a parte il fatto che è una novizia, in lei qualsiasi sentimento, ovvio di una ragazza di 20 anni, aperta a tutte le cose, all'amore naturalmente, la gioia di vivere, la grande gioia di vivere, di sapere, di conoscere. È una cosa veramente naturale, non è proprio una suora. Sì, ma voi qui siete tutti, eccetto chetorinesi, mi sembra, no? Sì. Lei di che regione è? Io sono una veneta. Una veneta? Ma con quale ascendenza, perché ha un nome così strano? Una veneta armena. Armena? Sì, papà è armeno. Te la ricordi questa intervista? No, assolutamente, non me la ricordo. Però ti posso raccontare un aneddoto divertente. Prego. Io ho fatto il provino con altre attrici per fare la suora giovane. E a Paolinelli il regista piacque molto il mio provino. E poi mi disse, io ti prenderei, però l'ultima parola è di Giovanni Arpino, perché è di Arpino la suora giovane. Allora subito mi vengono queste idee. Ho detto, mi prestate il vestito da suora per 24 ore? Sì, portalo pure a casa. Io sono andata a casa, ho preso un aereo e sono andata a Milano. Ho preso un tassi sempre vestita da suora. Sono andata a casa di Arpino. Sono salita. Ho suonato il campanello. Lui ha aperto un po' la porta e io gli ho detto, si può fare la carità a una suora? Ha spalancato e ha detto, la suora giovane. Sono qua. È incredibile, eh? Poi la vita quanto è armonica da questo punto di vista. Pensa te che nel 1981 sei stata intervistata a tantissimi miei colleghi della TV, della carta stampata, dei rotocalchi, ma nell'81 hai un intervistatore molto particolare. Guarda. Laura, tu sei stata la protagonista insieme a molti cantanti di questo genere di film. Come hai fatto a diventare la diva di questo genere di film? C'è una risposta seria e una risposta scherzosa. Quale vuoi delle due? Tutte e due. Allora, la risposta seria è che io ero un giovane e avevo bisogno di lavorare, avevo un tipo fisico che si cercava proprio per questi film, filiforme, bionda, il cappello lungo. Un po' malatina. Un po' malatina, avevo già fatto la cittadella, una predisposizione a piangere facilmente, senza cipolle, senza glicerina negli occhi. E quindi mi cercavano. Questa è la ragione vera e più autentica. Si lavora perché si deve. E invece scherzando? Invece scherzando è che avevamo, ti ricordi, il produttore Carbone? Certo. Era superstizioso da morire, era un napoletano. E lui sosteneva che io portavo fortuna, che dovunque mi mettesse facevo incassare. Allora io sono stata messa in tutti i film, credo anche per scaramanzia. Sai che questa intervista, io l'ho vista tutta, il film si chiamava Movie Movie, 1981, Morandi che ti intervista. Stai ridendo perché... Spiega, spiega, spiega. Perché prima di tutto ero tornata dal mare, questa intervista si vede che si faceva di lunedì, e io dicevo, ma Gianni, ma scusa, dovrei almeno andare dal parrucchiere. Ma figo, figurati, tirati sui capelli un po'. Vabbè, insomma, è nata così di corsa. E poi, perché effettivamente, la cosa che Carbone diceva, che io portavo fortuna, è vera. Tant'è che ho girato un film della Caselli, per esempio, ero incinta, e mettevo un vestito, e dietro avevano dovuto cominciare a mettermi delle stringhe, perché non ci stavo più. E allora, ogni volta, la sarta... Poi, piano piano, hanno cominciato a prendermi soltanto in primo piano. Fino a quando non sono andata. E la stessa cosa è successa, ma è successa quando sono... sono fatto il fin con Rita Pavone, e anche quello sempre di Carbone. Quella prima parte era girata dalla Wirtmüller e ho detto a Rita, dove avevamo il camerino insieme, le ho detto, Rita, forse questo è l'ultimo film che faccio, perché domani mattina mi sposo. Ti sposi con chi? Mi sposo con Gianni, ma non lo sa nessuno, non lo so neanche io in che quale chiesa dobbiamo andare. Io devo dire che mi ha sempre molto colpito perché non capita a tutte le coppie, la civiltà che anima il vostro rapporto tra te e Morandi, il modo in cui avete gestito la comunicazione della fine del vostro amore e il rispetto che si respira nella vostra famiglia. Tra poco ci voglio tornare, lo facciamo subito dopo ai nostri sostenitori pubblicitari, ancora con Laura e Fricchian, a Io e te. Vi aspettiamo. Quello che potremmo fare io e te Che potremmo fare io e te Ancora bentornati, Laura e Fricchian, ospite di Io e te nel Faccio a Faccio. Ho trovato in libreria un suo ultimo libro, Lettere a Laura, con il sottotitolo Dal mondo dei nessuno. Dal mondo dei nessuno. Mi fa molto piacere sottolinearlo e suggerirlo al pubblico a casa. Ma la cosa... Beh, insomma, io sono un uomo di fede. Tu hai fede? Ci sto pensando. In questo periodo? In questi anni? Da sempre. Da sempre ci penso e quando mi pare di avere trovato il momento in cui scatta quella cosa che è come l'amore, no? Scatta la fede, subito mi vengono duemila interrogativi e allora rimando. Sono in lista d'attesa. Beh, una risposta insolita. Non ho mai sentito nessuno rispondere così, ma è molto sincera come nel tuo stile. Io... A me piace pensare che quando una persona sale in cielo lascia in eredità alle persone che gli hanno voluto bene la sua voce. Ti faccio ascoltare una voce che secondo me abita ancora dentro di te. Questa. 15 giorni dopo Natale incontrai un amico carissimo. Mi vede da lontano e svirgola. E dice no. No, gli vado incontro, lo fermo, dico tu hai svirgolato. Sì, dice sei arrabbiato con me. Dice beh sì, te lo devo confessare, sono arrabbiato con te perché io ti ho mandato gli auguri e non ho ricevuti i tuoi per Natale. E quando ti sbagli, guarda, ti sbagli sul serio, io te li ho mandati gli auguri, i tuoi non li ho ricevuti, dico io. E lui mi fa non di risciocchezza perché i miei te l'ho mandato, te lo posso assicurare, te lo giuro. Beh, dica, non te lo che mi giuri, ma ci stiamo a giurare qua. Non saranno arrivati, era stato qualche disguido postale. Non mi sono arrivati gli auguri dell'amico mio a Pasqua. Di chi è questa voce? Ma Nino Taranto, è stato il mio papà. Io ho avuto due papà, quello televisivo era Gigi, e vabbè, poi te lo dico, mi verrà in mente, e il mio papà cinematografico è stato sempre lui. Che ti ha fatto conoscere Napoli, poi? Mi portava in giro per Napoli, io ti faccio conoscere, io vengo a Picciril, ho visto la gente inchinarsi, proprio sai, il senso del cappello, di togliersi il cappello, o commendatore. E lui era un uomo serissimo quando camminava per strada per Napoli. Non era un comico, era serio, era un signore serio, che diceva, andiamo a vedere questo, serissimo, un papà con la sua figlia. Poi il sud del mondo, il sud dell'Italia, ma il sud del mondo portano con sé quella che i brasiliani chiamano saudage, ma che in realtà è un sentimento agrodolce, quasi nostalgico, che tu hai conosciuto nella tua passione per l'Africa. C'è una foto, la numero 9, che chiedo alla regia di mandare Laura for Africa, un impegno, il tuo costante, che nasce come? Come si è sviluppato? Guarda, nasce come molte cose, come hai sentito anche prima, non nasce da un pensiero ben preciso. Il pensiero ben preciso c'è già dentro di te, ma ancora non lo sai. Io sono andata in Africa, era la terza volta che andavo a Malindi, del tutto casualmente, perché con degli amici volevamo partire per Cuba. poi il mio commercialista, che ha una casa a Malindi, mi ha telefonato, mi ha detto, ma che vai a Cuba? Lì c'è una casa, ci sono dei houseboy, ci sono quattro camere, ma ho detto ai miei amici, sentite se volete, ho un invito di andare a Malindi, ma come figurati, molto meglio, siamo partiti. E devo dire che era la terza volta che andavo in Kenya, la prima ero molto depressa, non mi ricordo quasi niente, la seconda ricordavo il safari, e quando sono arrivata a Roma avevo i bambini, dunque Marco avrà avuto 7 anni e Marianna 14, vi voglio portare in Africa assolutamente, perché se poi non ci sono più quegli animali, voi non li vedete più, è spaventatissima, che quella meraviglia che avevo visto nel parco... Sei stata attraversata la Mal d'Africa? Sì. Che ha toccato molte persone, molti occidentali. Io ho una mia teoria sul Mal d'Africa ed è proprio questa che poi mi ha tenuto lì, che quando sei lì e esci un attimo dall'albergo, cammini, vai un po' in giro e incontri delle persone, dei bambini poi, tocchi con mano la loro povertà. Il bambino che io ho preso in braccio mi... Mamma, mella, caramella. E se hai la caramella, io non ce l'avevo, ma ti fa dei sorrisi come se fossi in paradiso. Succede che poi torni a casa e io mi sono fermata davanti al frigorifero e non avevo il coraggio di aprirlo. Il frigorifero mio è pieno. Non lo volevo aprire. Quella povertà mi era arrivata dentro, mi faceva sentire in colpa. Io, quella volta che ero stata lì a Malindi, in un momento del tutto così, le cose che si fanno, avevo visto una carta topografica dove c'erano disegnate delle casette in un posto davanti all'oceano e io mi ho visto uno e ho detto ma quanto costano? Non costavano neanche tanto. Ho detto, sì, va bene, io prendo quella. Poi sono andata a casa e ho detto ma io mi sono comprata una casa in Africa. Ho comprato una casa in Africa? Sì, ho detto, certo, l'ho comprata perché penso che poi da lì posso andare in India, posso andare a Zanzibar. Non è vero niente. Io quando sono andata lì con Marco che aveva 19 anni e abbiamo preso possesso di questa casa da arredare, abbiamo aspettato il 9 di sera che ci portassero i materassi. Io sono andata lì per stare lì perché loro mi avevano conquistato. Io non potevo più continuare a vivere e a riempire il mio frigorifero perché mi sentivo terribilmente in colpa. Si sente la sincerità delle tue parole. Io prima di salutarti voglio omaggiarti come faccio con tutti gli ospiti con un disegno. Il disegno di Lucangelo Bracci in onore di questa conversazione che abbiamo avuto insieme. Questa è una citazione. Questa è una citazione, sì. Speriamo che la coglie. Vediamo se... Intanto lo facciamo prima vedere alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori il disegno che Lucangelo Bracci ha fatto in onore di Laura Efricchian. Laura. In Ercole questa, quando sono nella montagna. Raccontalo ai telespettatori che citazione ha fatto. una delle esperienze più terrificanti della mia vita. Un film che si chiamava Ercole alla conquista di Atlantide. Non solo... Vabbè, era un peplum e l'ho anche fatto con un nome d'arte perché Cottafavi diceva ma Efricchian, Epecrian, come lo leggono. Allora ho trovato un nome d'arte che era il nome della mia nonna Laura, il cognome, Altan. E io ho detto, vabbè, un nome di famiglia, Altan. Cottafavi, che non so se tu l'hai conosciuto, era un signore, sembrava un signore inglese, sempre col suo sigaro, mi guarda e fa certo che vista la tua statura era meglio Bassan magari. Ah, proprio così. È cominciata così. Poi, va bene, io sono la figlia della regina di Atlantide, immagino un ruolo... No. Siccome già era nella loro mente di Cottafavi e di Tessari di fare la cosa comica di... La cosa comica sono stata io perché come regina della figlia di Atlantide dovevo morire. se no Atlantide finiva. E quindi mi legavano dovunque. Qui mi hanno data in pasto a un mostro e mi hanno impappolata nella montagna di Cartapesta con i gessi che mi avevano peso. Stavo lì così. Infatti la citazione di Lucangelo Bracci è questa. No, è così perché sono stata lì così e poi a un certo punto sento pausa, mensa, chiudono le luce e io rimango nella montagna così. e dico ma nessuno, ma non c'è nessuno. È arrivata una sarta con una bottiglietta di Coca-Cola e una cannuccia e io sono stata felicissima di bere una cosa ma non si era previsto che era diuretica oltretutto. Quindi io sulla montagna lì così riprende la cosa e intanto Cottafavi a quel punto diventa serissimo e dice non c'erano allora gli effetti sai adesso noi dobbiamo togliere i pezzi della montagna perché Ercole ha già ucciso il mostro quindi tu torni donna ma non puoi muoverti neanche di un millimetro perché se no dobbiamo buttare via tutto mi ha fatto una cosa io tra la Coca-Cola la fatica tutto sono lì così e mi tolgono questi pezzi sto ferma immobile e poi lui mi dice e adesso svieni tra le braccia di Ercole e io ho fatto sono caduta svenuta beh dopo tutto questo sei svenuta anche per l'attenzione non solo sono svenuta mentre ero giù sulla spiaggia dove il mostro era stato ucciso ho fatto anche la pipì mi sembra una chiusura di intervista straordinaria insolita grazie di cuore è stato bellissimo conoscerti Laura Efrician ospite di Io e Te grazie di cuore grazie grazie veramente grazie veramente